A seguito della pandemia il PNRR nazionale ha declinato alcuni asset di intervento, tra cui quello dello sviluppo tecnologico. In questo asset rientrano a pieno le antenne 5G. Ora, noi capiamo che questa sia una grossa opportunità e necessità dal punto di vista dello sviluppo nazionale, però è anche vero che c'è la necessità di un governo del territorio. La pubblica amministrazione, assieme ai vari comitati, si trova in una difficile situazione di governare e tutelare il territorio e al contempo di garantire questo sviluppo. Per conoscere meglio tutto il tema delle antenne e per far fronte a questa necessità di governo che inizia ad essere eccessiva dal punto di vista delle possibilità anche date dalla nostra struttura tecnica interna, abbiamo deciso e votato in Consiglio Comunale di chiamare una società terza che ci aiuti in questo difficile compito. Ecco che inizia un processo partecipato per riscrivere il nuovo regolamento antenne che ad oggi, a seguito della sentenza del TAR, risulta non più in vigore e non più valido. Quindi inizia questo processo partecipato con un incontro molto importante che si terrà il 9, venerdì 9 febbraio e sarà online. Lo potrete vedere sulla pagina social del Comune di Fano e sulla pagina YouTube del Comune di Fano. Perché online? Perché in questo modo resterà a imperitura memoria sulla pagina YouTube del Comune di Fano e le persone potranno rivederlo, seguirlo, studiarlo e capire meglio una questione così delicata. Sarà un incontro in cui parleremo della normativa nazionale, della sua evoluzione, degli aspetti tecnici e se sarà possibile comunque anche sulla pagina social e YouTube scrivere delle domande cercheremo di rispondere a tutto e se così non fosse faremo in modo di trovare un sistema per raccogliere le domande e rispondere facendo un programma appunto partecipato. Questo è un primo passo in cui spieghiamo qual è l'aspetto e qual è il percorso che sta facendo il Comune. Seguiranno altri incontri pubblici per arrivare rapidamente entro marzo al nuovo regolamento che appunto ha scritto questa società a cui abbiamo dato l'incarico e che ci aiuterà nell'illustrare a pieno tutte le problematiche e le criticità che ci sono. Ricordiamoci sempre che quella che è un'opportunità però se non governata può essere un problema, quello che è un problema se governato può essere un'opportunità. Ricordiamoci sempre che sia un'opportunità.